Il Dottore Spinella Lui per noi è stato sempre una colonna portante e un sostegno per le nostre attività e per le nostre iniziative e oggi è venuto a trovarci proprio per sostenere questa attività della passerella anche perché lo sport è aperto a tutti e soprattutto ai diversamente abili e a chi ha difficoltà motorie. Per l'Oxain è un gran onore avere affiliata un'associazione sportiva direttantistica qual è l'associazione Giala proprio perché l'associazione svolge attività sul territorio sia nei confronti dei disabili e nei confronti ovviamente di tutte le persone che fanno tanta attività sportiva, giovani, meno giovani e quant'altro. Con Giala abbiamo fatto tante belle iniziative perché proprio l'ente di promozione sportiva ha come idea principale quella di far praticare lo sport a tutti Grazie a Giala in Sicilia l'Oxain è assolutamente uno dei principali enti di promozione sportiva che appunto si occupa e abbraccia tutti i settori dello sport e soprattutto riesce a far partecipare alla vita sportiva molta popolazione siciliana e per questo appunto ringraziamo e ringrazio ancora il presidente dell'ASD Giala, Corrado Ragusa. Grazie